Mister, sabato si va a Ravenna, che partita si aspetta? Una partita difficile, su un campo difficile, da come hanno detto, anche brutto, e quindi deve essere una partita da prendere bene, mentalmente, consapevoli delle nostre qualità, di quello che possiamo fare per andare a Ravenna e vincere la partita. Ecco, ce l'avamo lasciati dopo il derby dicendo che quello che è passato ormai è già dimenticato, bisogna subito scendere in campo e cercare di dare il massimo. Sì, ma io ragiono così, nel senso che il passato tante volte toglie energia, quindi la cosa importante è il presente e il futuro, quindi noi ci dobbiamo preparare bene per la partita di sabato, e poi ci penserà alla prossima. La si affronta con un po' più di serenità, non relax, ma serenità? La si affronta, lasciamo serenità, relax, la si affronta come si deve affrontare, speriamo naturalmente, perché già serenità può essere un'arma a doppio taglio, quindi noi andiamo, la affrontiamo come se fosse una finale.